Oggi ricorrenza di Santa Barbara, le scuole sono qui alla caserma di Vigili del Fuoco di Montevarchi per vedere da vicino il vostro lavoro e l'importanza del vostro ruolo in quella società. Sì, noi tutti gli anni organizziamo questa festa perché è un modo proprio reale di poter aprire la porta della caserma per poter far venire ragazzi e tutte le istituzioni a vedere da vicino quello che è il nostro tipo di lavoro. Perché passando dalla strada, tante volte si vede un ambiente grande, magari sembra deserto, però all'interno ci sono persone che fanno un certo tipo di lavoro con delle altre specializzazioni tecniche a servizio dei nostri dieci comuni della Vallata. Nell'occasione della giornata di Santa Barbara è un'occasione per aprire la porta a tutti, a tutte le istituzioni e a tutti i ragazzi e chissà che fra questi ragazzi tra qualche anno qualche cuore fibrillerà per questo tipo di lavoro.